Il fattore campo perché dopo il successo di ieri sera all'Allianz Stadium della Juventus per 2-0 contro la Lazio, questa sera replica la Fiorentina, lo fa davanti al proprio pubblico quello del Franchi battendo per 1-0 l'Atalanta. Un risultato sì di misura porta successo della Viola ma che poteva Andrea Rannocchi ritrovato ti ha stupito più in positiva. Allora tra pochissimo andremo a rivedere tutto, prima però ovviamente saluto anche Andrea De Marco senza spoilerare niente da andare a rivedere. Beh ovviamente tutto quello che è successo al Franchi con il film del match, il riassunto affidato a chi la sfida ce l'ha raccontata? Riccardo Trevisani. Sarà chiamata a ribaltare un risultato diverso, il 2-0 che invece ieri ha incassato all'Allianz Stadium contro la Juventus. E a proposito anche dei bianconeri, torneremo a parlare di questo appuntamento ma restiamo focalizzati sul successo della Viola perché in questo caso è molto convincente. Chissà cosa ci dobbiamo aspettare, beh lo scoprirà dell'ammorbidente. Noi di cosa abbiamo bisogno invece adesso? Beh ovviamente delle pagelle di Franco Piantanida. E ha mantenuto comunque in scia la sua Atalanta quel 4,5 Massimo Mauro invece. Tra questi sembra esserci anche la Juventus che intanto però ha ipotecato con il 2-0 di ieri contro la Lazio il passaggio in finale. Chissà c'è ancora la sfida dall'Olimpico. Intanto però l'Allianz Stadium è tornato a splendere la luce di Federico Chiesa e di Dusan Vlaovic. Loro sono tornati al gol, non è andato a segno ma quando è entrato in campo ha davvero fatto vedere tante belle cose. Parliamo di Il Dis e allora i tifosi della Juventus si chiedono ma come mai non possono giocare tutti e tre insieme Fabio Manfreda? Fabio Manfreda però torno alla domanda con la quale l'ho lanciato questo servizio. Tutti e tre insieme no? Il prossimo appuntamento su chi farà affidamento Massimiliano Allegri. A proposito dei prossimi appuntamenti...